Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale, oggi vi presento lo spacchettamento Faberlic per quanto riguarda la campagna 1 intanto qui ho il catalogo di campagna 2, questo è valido fino all'11 di febbraio dove praticamente ci sono già alcuni regali anche per la festa del papà anche per San Valentino, insomma ci sono delle bellissime offerte anche questa volta, come sempre ovviamente allora adesso vi faccio vedere subito quello che mi hanno ordinato anche perché sono in per cento di spedizioni quindi faccio un po' veloce allora, un altente mi ha ordinato questo Ede Parfum Platinum da 50 ml e questo 13,49 euro poi mi ha preso tutta la serie per quanto riguarda il cioccolato e menta che erano praticamente a un prezzo speciale allora qui abbiamo la saponetta, cioccolato e menta a 69 centesimi il balsamo labbra, sempre cioccolato e menta a 1,19 euro poi questo è il bagno doccia allora, il bagno schiuma 1,59 euro e il sapone per le mani 1,59 euro poi mi ha preso ah, poi c'è scusate lo scrub che è questo qui sempre al cioccolato e menta lo scrub 2,29 euro e poi ha preso anche questa è la ciliegia sapone per le mani questo era un set quindi tutti e due venivano 2,09 euro poi allora un'altra cliente mi ha preso allora questo è De Toilette della Promenade questo è da 30 ml 3,19 euro sempre è De Toilette il Offeric Sensuel 3,19 euro sempre da 30 ml poi mi ha preso delle saponette per le mani erano praticamente in un'offerta se se le prendevano 5 le si pagavano 0,49 l'una quindi qua adesso non so che fragranza sono però sono molto profumate sono queste me ne ho preso 3 di questo tipo e due di queste che sono tipo al cocco e poi mi ha preso questo mascara questo qui vediamo non riesco a farvelo vedere lo scovolino perché non voglio rovinare questo e questo il mascara nero 2,29 euro poi allora un altro cliente mi ha preso questo Rige in Tè al questo dovrebbe essere il tè nero sì il tè nero e il tè 1,39 euro poi mi ha preso questi sono i champi alle proteine del latte questi sono da 250 ml e questo qui è allora uno è la frago scusate mi è volato il telefono allora questa è la fragola e questa è la mandorla poi mi ha preso il dentifricio questo qua al 200% concentrato questo ve lo faccio vedere aperto eccolo qui questo è da 75 ml allora il dentifricio 1,59 euro e quelli i doccia mi sembra che i doccia crema scusate questi sono doccia crema se non sbaglio non mi ricordo se sono 1,79 euro l'uno se non sbaglio questi qui comunque poi vi metto i prezzi in descrizione ok poi mi ha preso un po' di altri doccia crema che sono qui ce ne sono un bel po' proprio perché erano un'offerta a prezzo speciale ecco sono cinque ok allora e sono questi qui da 200 scusate da 200 ml allora questo è al sembra un ribes questi qui e questi venivano 1,19 euro l'uno poi mente cioccolato poi la verbena questa la verbena dovrebbe essere uguale sì sempre 1,19 euro la verbena poi abbiamo questo che è quello tipo biscotto una roba del genere e questo che è la ciliegia devo dire che sono anche molto buoni soprattutto la ciliegia anche la mente cioccolata è fantastica poi allora mi ha preso sapone per le mani che è questo 1,49 euro che ha fragole e ciliegia e un altro al frotti di bosco se non sbaglio scusate ma io con sì penso di mirtilli scusate non frotti di bosco questi qui che sono da 200 ml e questi qua venivano 1,49 euro l'uno poi mi ha preso le classiche saponette e me ne ha preso 3 e le saponette 69 centesimi chi ne prendeva 3 pagava 69 centesimi l'una chi ne prendeva 5 le pagava 49 centesimi l'una mi ha approfittato e ne ha preso 3 allora questo dovrebbe essere penso il giulio bianco se non sbaglio e poi queste non so questo mi sembra tanto un avocado e questa comunque sempre un frutto esotico comunque sono sicura che sia un buono ah poi mi ha preso altri tè allora questo è l'origine tè questo è questo è il tè nero allora questo è il tè nero e questo qui è quello al gelsomino ho confuso questo e poi invece questo qui è il tè originale normale semplice e questi qua erano sempre a 1,39 euro l'uno prezzo speciale poi mi ha preso delle creme mani allora questo è il kiwi e questo alla alla papaya mango e papaya questi sono da 75 ml e questi qua venivano 1,39 euro l'una poi mi ha preso il set da uomo che era la saponetta da uomo e il il bagno schiuma se non sbaglio shampoo e 2,89 euro poi mi ha preso un questo qui deve essere il rossetto se non sbaglio ve lo apro tanto non c'è il coso aspettate eh sì è un rossetto ed è questo fatto così questo colore qua che è molto 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 bello questo non mi ricordo quanto veniva mi sembra se non sbaglio 2,29 euro però comunque poi ve lo dico perché non l'ho segnato mi sono dimenticata ok e poi mi ha preso un po' di detergenti eh allora mi ha preso il detersivo per bucato questo qua a 2,69 euro questo è per tutti insomma per tutti i capi colorati eh e poi mi ha preso eh questo sempre del terzivo questo qua dovrebbe essere al gelsomino eh questi sono da 500 ml sono quelli con le capsule aromatiche che sono veramente veramente speciali sono buonissimi eh ve li consiglio e poi come ultima cosa mi ha preso i spray per gli ambienti che erano a 2,69 euro anche di spray allora mi ha preso questa è l'arancia e questi qua sono sempre la 250 ml questo che è mela e questo che eh dovrebbero essere frutti comunque penso che siano eh mamma mia mirtilli comunque frutti di bosco insomma poi allora adesso vi faccio vedere i prodotti che ho acquistato io i prezzi qualcuno lo so qualcuno ve lo dirò poi nel frattempo allora anche io ho acquistato questo ehm le Deprafam Platinum 13,49 euro poi ho acquistato questo detergente per i capi delicati eh questo qui sempre con non è questo questo non è con le arome capsule però va bene lo stesso mi sembra che anche questo qua era 2,69 euro se non erro e poi ho preso eh questo per pulire tutte le superfici quindi eh concentrato universale per pulire questo qui poi ho preso questo per i capi bianchi eh sempre da 500 ml anche questo se non sbaglierà non so se la 3,19 2,69 poi vi metto tutti i prezzi comunque poi ne ho profizzato anche io ho preso che è molto molto buono veramente l'ho già aperto e vi dico che lo adoro Offeric Sensuel e allora questo qui è l'edizione quella da borsetta quindi è praticissima da portare è anche molto carina per di più è quella da 15 ml che è così eccola qua questa è la versione da borsetta e devo dirvi che è veramente molto buono c'ha una profumazione comunque che ho voluto provare perché tipo il platinum si è buono però non mi fa impazzire infatti lo regalo a mia mamma ok vabbè poi ve la cuido e poi ho preso appunto questa che è l'E des no l'E des toilettes no E des parfums scusate che è quella da 50 ml e la versione da 50 ml è così ed è molto 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 bella questo packaging che è stupendo veramente la bottiglietta è una cosa di eccezionale oltre tutto il profumo è fantastico veramente buono poi ne ho approfittato ho preso la la crema per il corpo anzi questo è veramente il gel il gel corpo quindi da mettere sotto la doccia e questo è da 150 ml e ho preso anche il deodorante il deodorante da 75 ml poi invece per mia mamma ho preso questo sempre sono sempre questa è crema crema corpo questa è la Cherchez la Femme questo qui e la Donna Felice e questo invece è il gel doccia scusate e sono sempre da 150 ml poi io mi sono preso l'eyeliner questo qui ve lo faccio vedere tanto il mio con la punta così a pennellino quindi molto molto precisa nera e poi ho preso la serie dell'orangerie allora questo è lo spray spray corpo e questi sono praticamente al non saprei sinceramente perché non c'è scritto non c'è l'etichetta però comunque sono sicura che sono buone poi vi dico nella descrizione vi scrivo che cosa sono perché nel catalogo c'è scritto allora poi questa invece dovrebbe essere la crema mani questa è la crema mani questa è il mannaggia quando non mettono le etichette mi fanno impazzire perché è scritto comunque tutto in rosso questo dovrebbe essere se non sbaglio il gel corpo e questo è il bagno schiuma e questo è lo spray ok allora lo spacchettamento è finito quindi avete visto un po' i vari prodotti un po' diversi dall'altra volta vi ricordo comunque se vi sono piaciuti i prodotti di commentarli se volete sapere qualcosa in particolare per quanto riguarda i prodotti se volete lavorare per questa fantastica azienda di cui mi sto trovando benissimo io ho già un bel po' di persone che lavorano con me e si stanno trovando bene poi soprattutto come prezzi anche molto conveniente ci sono comunque molti incentivi tanti sconti infatti alcuni prodotti li ho presi al 50% di sconto proprio perché in ogni campagna ci sono degli incentivi poi comunque ci sono anche degli omaggi insomma è un'azienda molto molto bella dove ci sono comunque delle persone fantastiche io infatti voglio ringraziare per avermi preso con sé la mia responsabile Deborah Bertoletti spero di aver detto giù sul tuo cognome non mi uccidere insomma e quindi ti mando un grossissimo bacio so che guarderai il video e sono molto felice di fare parte di questa azienda quindi ragazzi ragazze se volete farne parte anche voi basta che mi contattate semplicemente al numero di telefono o via mail io sono disponibile in qualsiasi momento bambino permettente ovviamente quindi adesso sta dormendo sono riuscita a fare il video in tranquillità nel frattempo devo anche spedire quindi devo affrettarmi finito qua che dirvi alla prossima un bacione a tutti quanti ciao ciao